Musica Nella giornata in cui il segno X entra di diritto in vigore nella schedia del totocalcio pareggiano Granata, Spontricciolo, Perdi, Verrucchio mentre ci annullano la vicenda Mondaino e Asar non riuscendo ad approfittarne. A Mondaino assisteremo a un match con due squadre che esprimono un bel gioco, come usava dire Berlusconi, si divertono a vicenda. Errori che in prima categoria possono starci, specie in difesa, ma con il contributo filmato di Paolo Arcangeli vediamo le azioni salenti di questo match. I padori di casa in maglia verde vanno alla battuta con Baffioni, pallone alle stelle, dall'altra parte a più overa a fondo la Asar passa, la discesa di Pieri viene ostacolata da Mancini. Trattasi di penalti, dagli 11 metri Marchionna spiazza Cangini. Non c'è neppure il tempo di festeggiare, guardate l'immediato pareggio del Mondaino, palla al centro, si riprende, tocca all'indietro per Baffioni, apertura in avanti a cercare lo scatto di Lazzari, il quale va fino in fondo e segue una finta per liberarsi per poi emettere questo attraversone al centro dove, di testa, Federici non perdona. Con i bomber tra i giocatori più rappresentativi del Mondaino e della categoria che ha qualcosa da dire verso i contestatori. Masse di bomber affermati si palla, il duello a centro campo tra i due numeri quattro viene vinto da Michele Baffioni, suggerimento per Girometti, quale appoggia per Pagnini, tiro a giro sporcato da Mauri ma non trattenuto, via a nuovo vantaggio locale, 2-1 per il Mondaino. Ma il pareggio arriva tra le proteste dei padoni di casa che recriminano per un furigioco su questo lancio in avanti di Bologna a cercare Sogos, Sogos solo soletto, libero di raccogliere e battere Cangini, 2-2 tra mille proteste. Da punizione Federici mette a lato, Lazzari invece replica sfiorando prima la marcatura quando Angelini pesca ciabatta, la cui conclusione di facile presa per Cangini, ma il portiere ospite deve alzare bandiera bianca quando Angelini, dalla stessa mattonella dove aveva eseguito l'assist un attimo prima, inventa un diagonale di precisione assoluta, imparabile per l'estremo locale. 2-3 e anche per lui, che per tratti lineari a livello di viso e capigliatura assomiglia ad Aquilani, esultanza con contestazione. Federici si riprova da calcio piazzato, ma nulla da fare. Nella ripresa in Mondaino perviene al pareggio, la discesa di Pagnini viene premiata con tanto di gol finale e via alla nuova esultanza. Federici su punizione chiama Mauri alla presa, ma quando Gerometti allarga in destinazione Lazzari, il ragazzino esegue un movimento liberatorio per la conclusione che batte Mauri. 4-3, nuovo sorpasso ed esultanza tutta colorata. Come del resto il gol dell'Assar, che sotto gli ultimi raggi emessi da sole prima del tramonto, trova il pareggio con una punizione micidiale di Marchionna. Palla all'incrocio dei pali. L'ultimo tentativo è ad opera di Vannucci, bloccato da Cangini. Finale 4-4. Due squadre belle con diverse individualità interessanti, che escono tra gli applausi del pubblico presente.